amici buongiorno come state allora non fate caso alla mia faccia io e amico coala si chiama ciuffo vi salutiamo allora io vorrei far vedere le condizioni di questa casa di primo mattino allora qua tengo tutti questi vestiti da mettere a posto perché voi dovete sapere che mi pare che vi ho fatto vedere che ho lo stendino sul balcone c'è una bella luce ma in realtà io non so come fare per farvelo vedere fuori e cioè tutta nebbia io ecco vedete non so se riuscite a vedere è tutta nebbia sostanzialmente cioè quindi è molto molto umido e però la mia fortuna è che ci sta questo balconcino che è chiuso cioè c'è proprio una copertura sopra ma copertura di legno cioè è fatto proprio bene per cui anche se le cose sono umide o così insomma non non mi dà fastidio e non va sui panni l'umidità cioè non va sui vestiti per cui io ho fatto la lavatrice quando è stato l'altro ieri perché ha fatto no ieri ieri c'è stato un sole abbastanza potente perché sta facendo delle giornate di sole insomma arriva pure a 15 gradi mi ha asciugato i vestiti non so come sia possibile però poi io le metto sempre un pochettino qua vicino ai termosifoni perché prima di sistemarli mi sa sempre un po quella cosa di umido poi dici tu rosa che cosa fai la mattina appena ti svegli io vi faccio vedere le condizioni di questa stanza cioè ci rendiamo conto guardate qua a terra guardate di qua guardate di là ok quindi io adesso devo rifare il letto anzi aspettate che allora io di solito lo lo apro cioè lo apro sì lo cerco di insomma di far passare aria apro la finestra perché per me la casa la mattina deve prendere aria cioè nel senso una cosa mia è più forte di me ok quindi lascio un po così e apro un pochino la finestra anche se entra un pochino più il fresco però quei dieci minuti la finestra aperta devo farla stare perché comunque mi dà fastidio insomma si deve togliere quell'area della nottata e adesso metto a posto i vestiti c'è il mio libro lì come vedete che mi aspetta è sempre lì che mi aspetta 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 e vabbè poi devo sistemare la cucina perché ho fatto il panino alzando subito stamattina e c'ho altro casino qua pure nella cucina e vabbè quindi adesso mi dedico un pochino a queste cose a vi devo fare un video all perché mi è arrivata la borsa nuova che forse vi ho fatto vedere so se ve l'ho fatto arriva forse su instagram seguitemi su instagram se non mi seguite perché magari la vi faccio vedere sempre un poco più le cose nell'immediato non ci fate caso la capo che non si può guardarso struccata e scatassata da ieri sera che poi mi sono struccata pure malissimo tra l'altro mi ero fatta i capelli un po mossi con la piastra quella del santo subito che vi fece il video è veramente ammantenuto stranamente perché poi ieri sera siamo usciti a prendere un gelato con i vicini di casa e c'era un'umidità al 2000 per quindi eppure si sono mantenuti mossi e fate conto che quella piastra io ve ne parlai in un video cioè sul canale quella piastra della gamma non non è per fare i capelli mossi è solo per stirare quindi già è tantissimo quello che mi fa e vabbè comunque detto questo oggi mi deve arrivare il pacco io ho capelli dappertutto mi deve arrivare il pacco da casa quindi sono contenta perché all'interno non solo ci sono le cose estive perché purtroppo temo che allora noi abbiamo fatto dei calcoli e purtroppo a livello di tempistiche con le ferie non riusciamo a scendere quindi penso e temo che per pasqua a meno che non troviamo un last minute non riusciamo a fare qualcosina non credo che riusciremo a scendere a me mi fa mare il cuore già per questa cosa infatti quando l'ho dovuto dire a casa perché poi in realtà scenderemo direttamente a luglio inizio luglio quindi però ragazzi abbiamo poco tempo cioè abbiamo pochi giorni e scendere solo per quattro giorni nelle vacanze di pasqua dici sì tu ti fai però quei quattro giorni con la famiglia indubbiamente però è una corsa cioè diventerebbe una corsa e quindi e poi ci costerebbe tantissimo al di là del fattore economico perché se uno lo vuole fare lo fa però effettivamente ragazzi per quattro giorni sono scesa a natale e per 12 giorni e li ho visti e non li ho visti perché tra le varie cose che tu fai sistemare comprare roba portarti su altra roba salutare i parenti poi giri vari non non te li godi cioè ti diventa uno stress cioè io sono stata a casa mia 12 giorni e mi sembravano quattro giorni immaginate scendere per quattro giorni considerando che una giornata se ne va praticamente di viaggio non lo so io però sarei felice di scendere quindi adesso vedremo per ora siamo rimasti che non scendiamo per essere insomma sicuri di avere tutto il necessario io mi sono fatta fare il famoso pacco da giù insomma è perché mi dovevano mandare anche le cose che ho vinto col giveaway perché se vi ricordate io vi dissi che avevo vinto le cose di giuliana make up the light mi sono arrivate già da diverso tempo ma sono arrivate giù perché io per sicurezza le feci spedire giù e perché sto camminando perché non riesco a stare fermi o cammino mentre faccio i blog io cammino mentre sto a telefono io cammino sempre però sempre sto fermo magari evitate di vedere il casino che c'è in casa vabbè comunque vi dicevo praticamente niente mi deve arrivare sto pacco oggi speriamo che mi arrivi e poi devo cucinare sistema un po con la casa devo lavare a terra devo studiare devo e poi nulla che vi dovevo dire e non vedo l'ora di vedere che cosa c'è nel pacco perché poi comunque papà mi ha mandato altre cose tipo magliette cose anche estive che io non avevo portato perché era quasi sicuro che saremmo scesi però dato che adesso si è trovato papà a mandarmi le cose del giveaway insomma che mi dovevano arrivare mi ha detto ne approfitto ti faccio il pacco grande ti mando anche qualcosa estiva perché poi nel caso non riusciate a scendere insomma faccio già un pacco tutto adesso perché conveniva e mi ha mandato delle cose tipo magliette poi tra l'altro non so se vi metterò sto vlog attaccato all'altro comunque ma vi ho già detto che volevamo iniziare la palestra costando subito e magari mi siedo che è meglio stiamo vedendo per iniziare la palestra abbiamo visto alcune palestre però ragazze i prezzi sono un pochettino altini per cui stiamo andando cioè vogliamo vedere un pochino adesso abbiamo trovato una palestra che fa un'offerta e dobbiamo andare a vedere se tutto va bene insomma poi vi faccio sapere perché almeno quelle due volte a settimana noi vorremmo andare se riusciamo l'ideale sarebbe tre volte a settimana si è interrotto il video perché sto telefono ogni tanto non so se è un problema di di spazio nella memoria ma lo spazio c'è non so perché fa così ogni tanto vi dicevo mi sono scordata perché vedete io ho una certa età e quindi poi vi dico le cose si interrompono il telefono mi interrompe non capisco niente più no sostanzialmente dicevo dato che comunque poi dovremmo riscendere onestamente non ci conviene fare l'annuale e anche il semestrale sarebbe comunque ci andiamo a perdere un mese un mese e mezzo attualmente e quindi vogliamo trovare qualche palestra che se anche fosse un pochino più lontana però ci fa pagare un poco di meno perché i prezzi sono alti raga simile alle palestre di giù devo dire la verità perché poi dipende dal tipo di palestra noi qua abbiamo visto delle palestre che erano proprio dei beauty center cioè erano tipo roba da tre piani cose e in realtà per quello che ti offrono se vai a vedere il prezzo totale di un abbonamento annuale non è nemmeno tanto però ognuno sa i fatti suoi quindi per noi è tanto nel senso che per quello che ne soffriremo noi per i giorni che andiamo noi onestamente non ne vale la pena spendere quei soldi e quindi però almeno per fare qualcosina tipo insieme il pomeriggio per insomma per riempirci pure un pochino le giornate perché non è che non abbiamo da fare però lui purtroppo aveva iniziato un bel percorso in palestra e l'ha dovuto lasciare perché poi se ci siamo trasferiti io avevo iniziato e mi piaceva pure però poi col trasferimento non siamo riusciti e vorremmo iniziare almeno questi cinque sei insomma su questi cinque mesi ce li vorremmo fare e vabbè comunque io vado a sistemare il casino e ci vediamo dopo ciao ciao amici allora ecco il pacco e meno male è arrivato mio papà stava un po diciamo come posso dire ansioso perché non mi ha mai mandato un pacco quindi insomma ci sono le vedo sono qui le mie ste smith a mia nonna mi ha messo pure le crucette perché le ho detto che avevo bisogno di queste per l'armadio un'altra crucette bravissimi c'è la borsa ci sono le scarpine qua vediamo un po sono riuscite a metterci tutto in questo pacco cioè a vedete ci sono vabbè poi vi faccio vedere ci stanno anche le scarpine estive ci sono queste ai cosi sandaletti questi qua vabbè comunque poi questi li calcio vediamo un po cos'altro c'è qui dentro gli occhiali i miei cari meravigliosi occhiali che mi servivano questi sono i miei occhiali preferiti aspettate che ve li faccio vedere che non so se ve li ricordate ve li feci vedere un po di tempo fa questi li presi mi ricordo sono guest li presi non fate caso all'unghia perché si è spezzata e mi fa un male che non vi dico li presi su sempre su una vendita di saldi privati queste cose qua penso privali a a pochissimo tipo li pagai 30 euro e me li sono fatti mandare perché è vero che qua fa freddo però delle volte esce il sole e una cosa allucinante a ok mi hanno mandato anche la ecco qua questa qua lo zainetto questo olio giù di qui comincio ad intravedere qualcosina che mi interessa tanto bene benissimo vabbè poi magari ve li faccio vedere in un ullo queste cose qua mi hanno mandato la tastiera per il computer i libri cioè vabbè ci sono varie varie ed eventuali la cosina per cucinare altre insomma altre gruccette vabbè scarpe scarpine scarpette queste sono le cose oddio questi me li ero dimenticati sì è vero Giuliana mi aveva mandato pure questi vabbè poi vi farò un video a parte per farvi vedere queste cose qui sotto poi ci sono tutti i vestiti vedete vestiti vestitini insomma che devo adesso me ne devo un pochino sistemare mi hanno piegati così bene c'è il libro perché io devo ancora studiare tutto questo quindi mi sono fatta mandare il libro vabbè comunque io adesso disfaccio un po qui la la situazione il deodorante vabbè metto un po a posto la la situation e se non sono contentissimo Ce la posso far devo vedere un pochino perché poi insomma Aspettate che cambio la visuale così come qua ci sono sono contentissima perché praticamente Dato che a casa mia con i vestiti me la vedevo sempre io cioè con le lavatrici le mie cose È stato un pochino di saggevole riuscire a far mettere le cose a posta cioè a posto Capire che cosa mi dovessero mandare non è stata una cosa molto semplice perché praticamente Fu un giorno scuro che mio padre prese il cellulare in mano e con la lampadina nel mio armadio perché a casa c'era il finimundo perché L'ultimamente sta facendo un tempo bruttissimo giù sta facendo meglio qua al nord Giornate di sole come potete vedere che giù da noi quindi praticamente Abbiamo fatto una videochiamata che è stato proprio vi giuro io ridevo perché non ce la facevo Mio padre con il cellulare in mano che faceva la videochiamata su whatsapp Mentre mia nonna scavava tra i vestiti mio padre con la lampadina perché a casa mia non si vedeva niente perché se vi ricordate Casa mia è un pochino scura Penso che chi mi segue dagli scorsi Sì ho ancora la tazza della colazione Chi mi segue dagli scorsi vlog si ricorderà che la mia stanza è Bluminosa davanti al balcone insomma la parte del balcone però avendo un armadio molto grande mi prende parecchia luce quindi Ci sta dietro all'armadio loro non riuscivano a vedere una Cippalippa quindi mio padre con lampadina telefono che mi faceva il video e mia nonna che scavava tra i vestiti ci sono ce l'hanno fatta adesso non so che cosa mi hanno mandato ma penso che siano le cose giuste E vabbè io intanto adesso me lo vado a sistemare sto pacchettone insomma metto a posto un po le cose e Penso che ci vedremo più tardi Amici eccoci qua allora Sto praticamente Sistemando tutte le cosine qua che mi hanno mandato con il pacco da casa La tastiera per il computer il lo zainetto questo qua mi sono fatta manda perché è comodo Questo è quello di liu joe che vi feci vedere in un vecchio hall Poi va bella giacchina questa qua di similpelle perché Comunque mi hanno detto che qua la primavera si affaccia verso aprile maggio E sicuramente di solito continuo a fare abbastanza freschetto poi dipende dipende perché praticamente noi stiamo D'inverno adesso fa freschetto ma ci sta un sole che non vi dico quindi va bene pazzo praticamente il tempo Non so come abbiano fatto mi hanno mandato tutte Magliette estive e magliette per mezza stagione Di qua ci stanno dei vestitini questo è un vestitino di Love Moschino che presi un po di tempo fa questo è quello la mio preferito estivo che Mi si pure una foto su instagram insomma Mi sono fatta mandare una di queste qua aperte le felpe poi di qua ho le ballerine che devo far lavare queste sono le converse Le stenschmitt che lo sapete io amo le stenschmitt ma le devo mettere a lavare pure queste Le lavo in lavatrice normalmente Due paia di sandaletti perché non si può mai sapere E poi non aveva mandato questo qua il un lenzuolo di quelli diciamo più di cotone leggero E questa asciugamano perché poi se dovessi andare in palestra io Non uso molto l'accappatoio preferisco gli asciugamani e mi sono fatta mandare questo qua diciamo più In realtà probabilmente nel pacco ce n'andava pure un altro e poi vi faccio vedere ma non spoilerò Lì sopra non so se vedete ci sono delle cosine quelle sono le cose Che ho vinto poi magari vi faccio un video a parte per quello perché sono qua diventa diventa una cosa lunghissima Queste cose poi li dovrò anche stirare ma penso che le stirerò poi proprio direttamente quando Sarà il momento perché a stirarle adesso e riporle in questo modo qua penso che le ritroverei un'altra volta così anche peggio e li vado a sistemare perché così insomma Devo vedere anche dove infilarla sta roba io Amici ci buonasera allora detto zitto perché è sera sono praticamente le dieci no le nove e mezza E io ho questo burdel che io che devo sistemare prontamente Perché abbiamo cenato e adesso devo fare la cucina e poi me ne vado di lago stando subito Ci guardiamo qualche serie televisiva io gli sto facendo vedere Sabrina Sabrina The Thrilling Adventures Non mi ricordo come si chiama comunque le avventure di Sabrina La strega Che avevo Visto io fino alla mi pare undicesima puntata poi si erano fermati con Diciamo con gli episodi E non l'avevo vista più poi l'ho ripresa per farla vedere a stando subito e mi sono accorta che hanno rimesso ci hanno messo tutti gli altri episodi E quindi è come se ce la stessimo guardando insieme E molto carina devo dire la verità poi abbiamo visto the witcher Bellina pure quella un po al stile game of thrones Un po' come game of thrones insomma Un po' particolare ecco fantasy Un po' Non molto soft però è carina quella là E poi cos'altro Se avete qualche serie televisiva da suggerirmi scrivetemelo sotto perché Che avevamo iniziato a vedere the boys però le puntate sono un pochino troppo lunghe quindi non Non c'ha proprio Non ci fate caso alla luce perché allora io c'ho questi led guardate quanto sono belli C'è sta cucina c'ha questa finestra qua stupenda e questi led Sopra che io adoro adoro quindi mi fa un'atmosfera la sera a me qua Comunque veramente Scrivetemi qualche serie televisiva sotto che a voi è piaciuta tanto va buona casa di carta l'abbiamo finita Stiamo aspettando la prossima stagione gliel'ho fatta vedere gli è piaciuta tantissimo Io l'avevo già vista prima poi l'ho riguardata con lui di nuovo E niente adesso magari è pure ora che mi metto a fare la cucina perché se no ci andiamo a dormire dopo domani Detto ciò vi faccio vedere due cose del giveaway ma proprio perché questo l'ho appoggiato proprio per bellezza sulla cucina Ma lo vedrete poi nel video che vi ho girato il bicchiere questo qua è Una cosa che però mi sono dimenticata di farvi vedere in quel video perché l'avevo lasciato praticamente sul sul tavolo e non li ho fatti vedere C'erano anche questi nel giveaway e saranno la nostra colazione di domani mattina perché vabbè cioè guardate raga Noi questi in italia non penso si trovino anzi se si trovano in italia mi potreste dire dove perché Cioè io avevo lo spizio vabbè già è tanto provare questi questi però sono cioccolato e menta quindi non so proprio il sapore però Se mi suggerite se c'è modo di trovarli in italia ma non credo perché noi Volevamo provare quelli che avevamo visto da alcuni youtuber Che sono così neri intorno però con la crema di latte dentro comunque secondo me sono buonissimi cioè vabbè poi La nostra colazione di domani mattina quindi sono felice e vabbè adesso magari è pure l'ora che mi vada a fare i piatti perché sennò qua Non non si va più a dormì ci vediamo magari se vi fa piacere in un prossimo vlog E niente un bacio e a presto ciao